ehi ragazzi ciao da nick e bentornati qua su eurotrack simulator c'ho un collega dietro di me che sta a fare il pieno quindi ragazzi bentornati possiamo continuare con il nostro viaggio che ci stava portando non mi ricordo più a budapest quindi est europa raga cominciamo non abbiamo un mucchio di tempo quindi accendiamo il motore accendiamo le luci abbasso un po il volume di gioco che mi spacca le orecchie apposta ok oh mamma mia che che fila che c'è sta vai non voglio mica vai vai non c'ho mica voglia di partire dopo di questi guarda quante macchine andiamo ok di dormire abbiamo già dormito il tizio è bello che riposa un pezzipazzo non vedi che sto uscendo ok quindi ragazzi continua il viaggio che ci porta a budapest abbiamo davanti a noi un'altra metà strada siamo più o meno a metà strada quindi nicchiamo schiaccia sull'acceleratore e se parte ok sto schiacciando l'acceleratore con tutti e due i piedi come dire che tutte e due schiacciano e tutte e due un po se riposano ma perché tanto nome appena raggiungo i 100 chilometri orari attivo l'autocruise così che che va da solo e non devo neanche schiacciare i pedali forza limite di 70 e quello qui accanto a me di fatti sta rallentando e io sai che te dico come mettonato si risopasso così che così che sorpasso a sto passo qua insomma se ci riesco non ci riesco non importa limite di 90 c'è una curva vabbè dai cia fama anche col pedale schiacciato dai capirai una curvetta mica mica chissà che va bene dai siamo al 300 che faccio attivo l'autocruise avanti ho messo l'autocruise così che ho l'acceleratore premuto e devo solo controllare insomma c'è una miti trebbia devo solo controllare insomma lo stesso perché era bello se c'era anche lo del volante che c'è se si manteneva da solo in strada beh bel gioco vero lasciavo lui che guidava io non facevo niente benissimo un amico mio mi ha detto nic che quando arrivi a budapest compra un come si chiama compra un deposito dei camion c'è per espandere la nostra azienda ma io non mi pare che soldi non ne ho più faccio 200 mila euro da dove sono usciti 200 mila euro ma io mi ricordo che ero rimasto quasi senza una lira che avevo perso tutti i soldi per le riparazioni cosa è successo non ne ho la più pallida idea forse devo aver caricato qualche salvataggio precedente o forse il dlc che ho messo non ho la più pallida idea però a quanto pare o 200 mila euro quindi meglio buono meglio così mi avete anche detto nic che cambia il camion compren un altro ma questo non è da molto che ce l'ho dov'è che si può vedere da quanto tempo lo sto guidando sto coso f6 allora vediamo un po lavoro attuale destinazione consegna prevista aspetta devo girare prima che prima che leggo 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 poi e poi non faccio caso dove sto andando ok ok perfetto quindi dove l'ho rimasto f6 destinazione consegna prevista guadagno 33 mila euro bello tempo rimanente 2 ore 15 minuti prossima sosta riposo 9 ore 44 quindi possiamo viaggiare ancora per 9 ore 40 minuti e dobbiamo consegnare il carico entro due ore ma penso che c'è la fama comunque non sono riuscito a trovare da quanto tempo sto guidando sto camion cioè da quanti chilometri voglio dire non sono riuscito a trovare da quanti chilometri ho accumulato questo camion ma comunque diciamo che teoricamente non credo che ci ho fatto più di 5 6 mila chilometri ecco quindi non è che so tanti non è tantissimo non è da molto che ce l'ho ma comunque c'è molta strada davanti a noi guarda quanto traffico però vabbè dai prima o poi penso che lo cambieremo dai cos'è assicurati di fare in tempo ho capito ma che fa non dormo se il tizio c'è sonno devo pur dormire no ok oh cos'è sta storia oh sto tizio questa cacchio di macchina che non cammina va eh lo so che non è consentito però cacchio cioè hanno la freccia accesa aspettano l'ho capito ho la precedenza e ci fermiamo per farli passare vabbè che tanto non ci ho risolto niente questi guardi neanche sto schiacciando l'acceleratore perché non serve se schiacciando l'acceleratore gli finisco addosso no dai volevo l'autostrada se per... no dai eh se per andare in Ungheria la strada è questa non ci vengo più eeeh che cacchio meno male che stanno accelerando meno male ma per quanto tempo accelerano eeeh eeeh ebbè ebbè 90 eh non posso superarli sono tanti e te pareva che mi toccava schiacciare ecco vabbè raga ah devo andare vabbè se tutti vanno a sinistra io mi trovo con la strada libera no tutti no uno no ammazza il collega come come entra diciamo ah tranquillo spedito ha fatto la curva tranquillamente ok allora noi dobbiamo andare a sinistra direzione direzione Budapest ok guarda c'è una cos'è una ruspa no sta lavorando con la legna lavora con la legna lei signore lei lavora con la legna si diverte eh e io lavoro trasportando che cacchio sto trasportando neanche lo so non ne ho la più palida idea l'unica cosa che mi interessa è che arriviamo in tempo perché il cliente si aspetta che Nick gli consegni al carico beh quantomeno la strada adesso è libera dai posso posso accelerare al massimo mamma mia c'è Nick che che va veloce come un dannato ok c'ho striscia continua non posso superare e invece Nick supera che cacchio si mette a mezza la strada questo fermo ok anzi che sono riuscito a superarne uno raga devi andare a destra ah rifornimento stazione di servizio vai oh meno uno davanti alle scatole ci stanno i trattori abbandonati in mezzo ai campi la mia di trebbia quella sta cammina sta camminando wow praticamente abbiamo farming simulator sulla destra oddio è divertente oh che cacchio è tu ti gioco la macchina che cacchio fai io ti devo superare no non posso maledetto vai a destra vai a destra no ok raga ci siamo abbiamo qui da prendere un'altra autostrada e per forza ok mo meglio che qua rallento ok oh ma neanche un autovelox mi pare in questo viaggio eh cioè dall'inizio fino a qui eh oh cacchio grazie se decidi di non mi fai passare oh ma allora è scemo cioè prima si ferma per fammi passare e poi non ti fanno più passare grazie mio Dio eh si è fermato ho detto grazie guarda sto camionista gentile appena io inizio ad accelerare lui inizia pure ad accelerare come dire tu di qua non passi io vabbò io vabbò proseguiamo quanto tempo rimane prima che mi scada il tempo in ritardo aio davvero sono in ritardo e ma che cacchio volete uno deve pur dormire no in ritardo cioè il tizio c'è sonno si deve riposare no un momento f6 boh vabbè dice che ancora teoricamente dovrebbe durare sette ore senza dormire ma la barra del sonno pare pareva a metà piena te sprichi a soppassarmi e tanto non serve a niente devo andare a destra oh adesso è qui oddio quella macchina cacchio ok allora Budapest andiamo a Budapest andiamo a Budapest allora cosa devo guardare chi esce non c'è nessuno meno male a posto cosa è qua ok autovelox Nick ha detto non ne ho incontrato neanche uno e mo sbuca fuori però non ho non so alla velocità massima mi pare che è 70 aspetta un po' dov'è oh cacchio ecco dov'era l'avete visto l'autovelox era piccolo 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 messo lì dove c'è il guardrail qua a sinistra era lì era quello piccolino una scatolina che l'ho visto a malapena ok quantomeno non mi ha fatta la multa possiamo tornare a schiacciare sull'acceleratore e prendiamo velocità che siamo in ritardo il cliente è incavolato ma che cacchio vuole dai che il cliente è incavolato mi devo dare una mossa vai ok qua devo girare sono in ritardo il cliente mi aspetta dai 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 forza forza che cliente sta aspettando ok 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 oh ma siamo quasi arrivati dai cliente non fare così non piangere sto arrivando sto arrivando non vedi che fa pure buio ok ragazzi benvenuti a Budapest che c'è un'altra volta il coso della macchina fotografica ok c'è l'autovelox 50 50 50 eccolo qua lo vedete è lui perfetto perfetto evitata la multa un'altra volta mi becco mi becco il rosso Budapest esplorata ma si sono appena entrato ok a posto vediamo un po' ma che sto trasportando alla fine vabbè c'è un container quello che c'è dentro al container non si sa si parte forza nicchè forza ci siamo quasi allora avanti il verde vai ci siamo devo entrare qua dentro forza dai cammina ok vediamo come cacchio paccheggio o più avanti ok piano 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 ce la famo ho girato un po' troppo ok favo così dai forza forza ok fatto sganciamo danneggiamento 5.000 euro di penale di ritardo sti cacchia ehi ehi un momento oh mi sa che ho combinato un disastro ragazzi perché mi pare che ero livello 29 ma sono livello 25 ma sono livello 25 chissà che ho combinato con i salvataggi bu one moment ah ok si ok va bene questo si cioè ma che ho combinato con i salvataggi raga era livello più alto carica e mi pare che me lo dice si oddio questo è un salvataggio del 2013 devo aver combinato qualche devo aver combinato qualcosa mi pare che ero mi pare che mi diceva che ero ero maestro mi pare o no non ho la più palida idea di quello che ho combinato ragazzi vabbè oramai intanto l'unico salvataggio che resta qual è questo ebbè è che è di ieri quindi no è quello che ho fatto ieri no allora bu mi sai che ho perso il salvataggio no no la più palida idea bu vabbè oh fa niente dai si va avanti si recupera prima o poi quindi ragazzi spero che questo campfire vi sia piaciuto come sempre raga commentate iscrivetevi lasciate un bel pollicione in su ci becchiamo presto ragazzi ciao alla prossima